Un giorno, i principi gemelli del paese vicino, Tom e John, vennero a visitare il regno di Cenerentola. Il principe Leo accosse con gioia i suoi ospiti e decise di organizzare una festa dello yoga tutti insieme. Facciamo lo yoga party più grande del mondo! E così troveremo la nostra anima gemella durante l'evento. Nel frattempo, Jezabel e la sorella Cassandra si stavano pettinando davanti allo specchio, mentre Jezabel da dietro lo specchio le fece uno scherzo. Ecco il specchio sul muro! Sei così brutta! Cosa? Quando Cassandra si arrabbiò e gittò il suo pettine lo specchio cadde a terra e Jezabel apparse. Cosa? Non parlarmi mai più! Mentre le due sorelle litigavano, un piccione messaggero entrò dalla finestra. Oh! C'è una nota sul suo piede! Quel biglietto è mio! No! È mio! Lasciamelo subito! Alla fine, il foglio si strappò a metà. Una metà rimase nelle mani di Cassandra. E l'altra metà volò via da Jezabel e scomparve. Oh no! La carta è volata via! Oh! Sul mio c'è scritto unisciti al festa dello yoga si la nostra principessa. Mi chiedo che cosa sia lo yoga. Forza, scottaioliamo al palazzo e scopriamolo! A calar della notte Cassandra e Jezabel si intrufolarono nel palazzo di Cenerentola. Nascondendosi dalle guardie del palazzo e servitori entrarono nella stanza di Cenerentola. In quel momento Cenerentola era seduta a terra con gli occhi chiusi e faceva un suono tipo... Cosa sta facendo? Oh! Sta mandando l'incantesimo su di noi! Rispondiamo subito! Oh! Non gridare! Fai piano! Mentre Jezabel cercava di far tacere le sue urla, la sorella Cassandra inciampò e cadde davanti a Cenerentola. Oh! Che ci fate qui voi? Noi... Noi... Siamo sonnambule! Cenerentola era molto arrabbiata con le sue sorelle. Abbiamo fatto una passeggiata nel sonno, abbiamo aperto gli occhi e... Ci siamo ritrovate qui! Che cosa stavi facendo in questo momento? Cenerentola subito capì perché le sue sorelle si erano intrufolate nel palazzo. Stavo facendo esercizi di respirazione per lo yoga. Posso insegnarvi lo yoga delle principesse se volete. Venite in riva domani alle 12. Il giorno dopo si incontrarono per la lezione a piedi. Cenerentola diede alle sue sorelle dei libri da portare sulla testa. Tracciò una linea retta sul terreno con il ramoscello che trovò da qualche parte lì intorno. A titolo di esempio iniziò a camminare sulla linea con un libro in testa. Ahah! È così facile! Posso camminare anche con due libri? Prima Cassandra fece il passo. Ops! Il libro cade a terra. Guardatemi mentre imparo a camminare. I principi mi ammireranno. Jezabel si mise il libro in testa. Fece un passo. Poi un altro. Il libro non cadde. Nel terzo passo anche a lei cade il libro. Le sorelle che fallirono nelle lezioni di camminata iniziarono la seconda lezione della principessa formazione yoga, il corso di eloquenza. respiriamo profondamente e diciamo... Mamma, 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 mamma. Ma poiché Cassandra non si era lavata i denti, un cattivo odore si diffuse dalla sua bocca. Ah, che puzza! Hai mangiato pesce con il cioccolato al mattino? Il mattino seguente indossarono i loro vestiti sportivi e si incontrarono di nuovo. Il movimento iniziale era la posa dell'albero. La postura da principessa deve essere bella. Possiamo raggiungere questo obiettivo solo attraverso la posa dell'albero. Uniamo le nostre mani e fate un respiro profondo. Ora respiriamo lentamente. Mentre Cenerentola respirava profondamente, Jezabel si addormentò in piedi. Cassandra d'altra parte tirò fuori la lingua come un cane e continuava a respirare. Mi pensate sicuramente se non lo vedranno di me. Cenerentola, questa volta seduta sulla grande palla da pilates, si apriva e chiudeva le braccia. Mentre le sorelle cercavano di fare lo stesso, si sedettero sulla palla così duramente che la palla di yoga esplosero. Il giorno successivo fu l'ultimo giorno di principessa yoga. Cenerentola avrebbe insegnato alle sorelle lastre il movimento yoga più difficile. Se siete in grado di farlo avrete completato le lezioni di yoga della principessa. Diciamo che abbiamo completato le lezioni. Suppongo che ai principi vi piacerà, non è vero? Vi sposeranno, non è vero? Cenerentola sorrise si sdraiò a faccia in giù sull'erba e fece la mossa di yoga più difficile. Le sorelle lastre fecero lo stesso movimento più difficile da eseguire con dolore. È così difficile, non ci riesco. Il piede mi fa molto male. Cinque. Le sorelle iniziarono a sudare. Quattro. I loro corpi tremavano. Tre. Due. Proprio mentre le sorelle stavano per rinunciare al movimento, sognavano di ballare con i due principi givalli. Uno. Ce l'abbiamo fatta. Ora che sono riuscita a fare la cosa più difficile tra le mosse dello yoga, Cenerentola Subbo si è congratulata con le due sorelle. E diede loro una bella confezione regalo. Avete finalmente completato le lezioni di principessa yoga. Queste sono le vostre ricompense. Le sorelle aprirono subito il pacchetto con curiosità. Ma si arrabbierono molto quando videro delle scarpette da ginnastica e vestiti sportivi. Gettarono il pacco e se ne andarono. Cenerentola ci ha ingannato. Le faremo male indimenticabile. Cassandra e Jezabel in segreto presero i vestiti preferiti di Cenerentola e lasciarono immediatamente il palazzo. Arrivò il giorno dello yoga party. Le sorelle indossavano gli abiti di Cenerentola e andarono alla festa. Ma tutti gli ospiti guardarono Cassandra e Jezabel e ridevano. Ad accogliere i propri ospiti all'ingresso del palazzo, i principi gemelli Tom e John erano molto arrabbiati quando le hanno viste. Non avete letto tutta la lettera? Non si può entrare con quei vestiti. Oh! I miei vestiti! Perché avete preso i miei vestiti senza autorizzazione? Oh, beh, noi... Pensavamo di non poter essere delle principesse senza questi vestiti. In quel momento le sorelle videro i principi gemelli che si tennero per mano con un'altra gemella. E lasciarono il palazzo piangendo. Dopo quel giorno si resero conto che essere una buona principessa non richiede sempre di indossare abiti eleganti. Ma anche essere felici, mangiare sano e fare sport.